Upas, trame sino al 17 maggio, Rossella confessa il suo amore a Nunzio, Diana si risveglia. Negli episodi di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 13 al 17 maggio, Rossella confesserà il proprio amore a Nunzio e quindi Riccardo non potrà che prenderla male. I due uomini finiranno per scontrarsi duramente e solo l'intervento di Ornella placherà gli animi. Intanto Ida non ne potrà più delle continue discussioni con Ferri e sarà determinata a riprendersi Tommaso, mentre Clara non ce la farà a confessare ad Alberto che presto entrerà nel programma protezione testimoni con Edoardo. Inoltre Diana si risveglierà dal comma. Mariella si accorge che Guido è attratto da Claudia, Rossella sarà reduce dal rapimento avvenuto da parte di Marta Anselmi e dopo questo episodio shock deciderà di confessare i propri sentimenti a Nunzio. Il suo ex Riccardo di fronte a questa situazione non potrà che provare una profonda avversione verso il cuoco. Intanto Eugenio proseguirà le indagini per capire chi è il mandante del tentato omicidio di Diana. Nel frattempo Clara sarà pronta ad entrare nel programma protezione testimoni insieme a Edoardo, ma non troverà il coraggio di raccontarlo ad Alberto Paiadini. Mariella invece sarà ancora gelosa di Claudia e comprenderà che il marito con il trascorrere del tempo è sempre più colpito dalla sua vecchia amica. Filippo e Michele incontrano Viviana Melluso Nunzio e Riccardo si scontreranno duramente e solo l'intervento di Ornella placherà i due. Intanto un inatteso collaboratore aiuterà Eugenio e Lucia a fare luce sugli ultimi eventi che si sono verificati riguardo agli affari del clan guidato da Torrente. Nello stesso tempo Nicotera si riavvicinerà a Viola, ma il loro ritrovato idillio potrebbe essere nuovamente a rischio. Nel frattempo i medici faranno uscire Diana dal coma farmacologico e quindi la donna si risveglierà, con grande gioia di cammarota che sarà pronto a prendersi cura di lei. Gli attriti tra Ida e Roberto andranno avanti e la governante deciderà di procedere per via legali pur di riavere il piccolo Tommaso. Rossella invece deciderà di parlare con Crovi. Quando Ferri capirà che cosa sta succedendo, non ci riuscirà a fermare la governante e Diego, così sfogherà tutta la sua ira su Raffaele. Infine Filippo e Michele saranno scossi dall'incontro avvenuto con Viviana Melluso, una donna la cui figlia è incappata nell'anoressia a causa di alcuni contenuti pubblicati sul web. Riepilogo delle puntate precedenti negli episodi in onda nella settimana precedente, Eugenio e Lucia hanno scoperto che c'era una talpa all'interno della polizia, si tratta di Marta Anselmi, la quale dopo aver sparato a Damiano ha deciso di sequestrare Rossella e l'autista dell'ambulanza. Nunzio e Riccardo hanno deciso di unire le forze per salvare la ragazza. Inoltre Silvia e Michele si sono riavvicinati e ora sono pronti a vivere il loro amore, mentre Ida e Diego si sono rivolti al legale Micopoggi per conoscere quali sono le opzioni legali che la ragazza potrebbe usare a suo vantaggio pur di riavere Tommaso.